Musica Hello ragazzi, ciao da Nikkei e bentornati qua sulla Nikkei Craft Allora ragazzi, nello scorso gameplay abbiamo visto che la nave effettivamente naviga E già questa è una cosa molto positiva Ora vediamo un po', in questo gameplay pensavo di fare gli interni della nave Anche se non sono molto convinto di cosa fare e dove metterle Perché queste cose un pochettino mi mettono in confusione Ma piano piano penso che qualcosa riusciamo a farla Comunque riguardo al lag, sapete che ultimamente il gioco mi scatta Al momento pare che va bene Praticamente io ho 8 giga di RAM sul mio PC E di dedicati per Minecraft ce n'erano 4 4 su 8 Qualcuno dirà, beh, cavolo, certo, ne metti 4 su 8 Ovviamente potresti dedicarne di più a Minecraft Difatti adesso ne ho messi 5 giga a Minecraft Però è strano lo stesso perché anche prima Windows mi diceva Insomma anche adesso C'ho il 90% di RAM in uso Che quindi non mi spiego Se non è Minecraft che usa questa RAM Chi cacchio è che la usa questa RAM? Beh, diciamo che senza giocare bene o male C'ho sempre il 30% di RAM in uso Ma insomma, ma diciamocelo Ormai il minimo tra poco diventa 16 giga di RAM Quindi è inutile che cerco il pelo nell'uovo Ormai comincia a farsi stretta sta RAM Ce n'è bisogno un po' di più Poi riguardo a A questi solchi Ovviamente qualcuno mi ha detto Nicchia, beh, ovviamente tu hai messo Che l'acqua si consuma Quindi è naturale Che ci stanno questi solchi Vabbè, questo è anche vero Ma diciamo che volevo rimettere l'acqua infinita Però ragazzi, alla fine Diciamo pure che Non mi ricordo da dove ho tolto l'acqua Insomma, non mi ricordo più Come ho fatto a mettere l'acqua non infinita E quindi non mi ricordo più come si fa Ho cercato 10 minuti questa impostazione Ma non la ritrovo più Comunque, diciamo che almeno stiamo notando Che non lagga più Quindi Quindi va bene Ok, raga Ho rimosso un po' tutto Sto cercando di recuperare almeno un po' dei blocchi Per non lasciarli in giro Ok Vabbè, qualcuno se rimane lì sotto Che se ne frega Ok Allora, raga Torniamo a casa Mi svuoto un po' l'inventario E intanto decido cosa fare Dunque Qualcuno di voi mi ha suggerito Di creare addirittura dentro la nave Una discoteca Mettendo blocchi di diamante E blocchi di Di oro Sto guardando Non vorrei che c'è un creeper in casa Sapete com'è? Una volta E' più che sufficiente No? A posto? Bene Quindi Blocchi di diamante E blocchi di oro E dice Nick Vai a fare Una disco Disco music Dentro la nave E questa è una cosa che mi piace Poi un altro di voi Gli ha dato un bel suggerimento Perché goccio l'acqua? Ah no è lei che suda Allora Blocchi di questo E blocchi di diamante Beh diamanti non ne abbiamo Moltissimi ma Eh difatti No li abbiamo quasi proprio finiti i diamanti Ora Se non mi sbaglio Per fare i diamanti Una soluzione c'è E oltretutto Siccome non siamo più nel server Quelle famose ali Non dovrebbero essere un problema Comunque a prescindere Non mi interessano Che fine hanno fatto? Allora Quasi quasi vorrei provare A Creare i diamanti Solo che adesso io non mi ricordo come si faceva Allora Questo è un import E qui che ci va Export Mi pare Uno di Precision export Se Mettiamoci questo Allora Un precision export E Dov'è che ho messo il mio famoso Wrench Ormai questo me lo porto Con me da una vita Quindi abbiamo detto Gravel Mentre Cobblestone Eccolo qua E' importante pure lui Gravel Gravel Cobblestone Cobblestone Quindi Precision Fino a fatto la Gravel Gravel Allora Gravel 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 Perché la sta buttando Cosa cacchio succede? Aspetta 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 Sta funzionando? Ah ma credo che sta funzionando Difatti sta buttando fuori tanti oggetti No perché non mi ricordo più come funziona Difatti sta funzionando Ok Allora praticamente per chi non l'avesse capito Perché magari E' perché sto così da tanto che l'ho montato Questo macchinario qui trasforma la Gravel Vedete che diminuisce Trasforma la Gravel in qualcos'altro E Possibilmente C'è anche una buona possibilità Che la Gravel Venga trasformata In diamanti Però ne abbiamo sei E poi vediamo dopo Se aumentano Allora Questo non mi serve più Bene C'è voluto un po' Ma era da tanto che non lo facevo Ma se invece la zona da ballo La facciamo sopra Che poi non c'è molto spazio Eh Però è bello ballare all'aria aperta Mi sta venendo in mente anche un'idea Potrei fare la zona da ballo qua sopra E sotto risparmiarmi lo spazio per altro A sto punto Sto riflettendo di fare Vediamo Tanto la devo fare comunque piccola La zona da ballo Non è che deve essere una zona enorme La nave è quella che è Non è enorme È grandicella Ma non certo enorme Quindi se io tolgo questi E la zona da ballo La faccio qui sopra Oh wait Vai Hai visto una passeggiata Bene Piccola zona da ballo Poi pensavo Di mettere Un qualche piccolo sistema di luci Però è brutto Perché Chiaramente viene Un sistema di luci Che vola Ovviamente Ma qualche cosa Ci può stare Ci devo un po' riflettere Quindi zona da ballo Qui sopra Mi avanzano dei blocchi Perché poi uno li usa Per qualcos'altro Ovviamente si vede Ma non c'è scelta A meno che A meno che qui non copro Perché tanto è brutto Da vedere questa scala E quest'aria qui Magari io qua Andrei a tappare Perché tanto non ha senso Vedere tutto questo spazio Inutilmente Inutile Ok Comunque qui non c'è Molto spazio E Non ha molto senso Cosa ci potrei fare Il bagno Non ha molto senso Però forse Chiudere E nascondere In un modo Nell'altro Magari questo Chiudo E nascondo Questi blocchi Così che non si vedono Beh andiamo a prendere Altri blocchi Va Dove c'è che parte Devo andare qua Ok Dunque Vai dentro Vai dentro Allora Luce blu Una luce rossa Mi fa comodo Poi Luce verde E per finire Quale ha una luce gialla Ci starebbe bene Benissimo Perfetto Poi Poi ragazzi mi sta venendo in mente Un'altra idea Slab Questa è un'altra cosa Che dobbiamo provare Con i slab Un'altra piccola idea Comunque Comunque lagga Pochissimo adesso Quel giga in più Che gli ho dedicato Va bene Dico per quanto riguarda Almeno che non lagga Granché Invece per quanto riguarda Questo Non lo so Ditemi Vi piace A me non mi dispiace Mi sembra anche carino Mi sembra anche carino Ho voluto lasciare un po' di spazio per passare Ovviamente Poi Un'altra cosa Perché mi sono portato i diamanti Cioè questi Perché volevo fare così No Non proprio così Ah Forse questo è un altro cavolo di slab Accidenti Allora proviamo invece così Vai su Facciamo tutto in legno Potrei fare così Questo sarebbe il lettino Eh Oh Proprio questo volevo Un bel lettino In cui uno si piglia il sole Avete capito Un lettino in diamante Finalmente Ho trovato la soluzione Bene Quest'altra cosa è fatta Poi Qui come Va bene così Ma si Può andar bene O se no Se ci metto Questi qua Bene Ci sta anche bene Ok La discoteca là davanti Ci sta bene pure lei Tutto sommato Ah un'altra cosa Vero Com'è che si fa la trappola Che non mi ricordo più La trappola Eccola qua Facciamone un po' di più Allora perché la trappola Un altro di voi Mi ha suggerito Di tappare Di tappare Diciamo questi buchi Che scendono Con le trappole Così che insomma Non cadi Quando devi scendere Fai così Bene Ci sta bene pure qua Per scendere E per salire Buono Poi Ero rimasto Che qua Tappiamo In un modo o nell'altro Così che Non si vede No qua magari Questo credo di no Ma poi ci rifletto Un po' meglio Comunque Voglio tappare In modo che qua Non si vede Quello che c'è sopra Ok Diciamo Ma quasi quasi Perché no Se vado un po' di più A tappare Cioè io pensavo Di fare dei bagni qua Ma perché no Non lo so Mi viene in mente Questa è idea L'unico problema È che lo spazio È molto poco Più che altro No Così non posso passare Allora Se voglio fare dei bagni Ovviamente Qua devo chiudere In modo che Non si vede niente Chiaramente Chiaramente voglio fare Due bagni Eh ovviamente Uno per Maschio Uno per donna Diciamo Ah Ho paura che qui dentro Mi appare poi qualche mostro Quindi ci mettiamo Una bella torcia Un'altra torcia La mettiamo qua Ok Ho messa lì la torcia Sul legno Sì Ok Magari qui sopra Ci mettiamo Del vetro Che va semplicemente Così ad illuminare Meglio l'interno Diciamo che uno Per guardare Qualcuno Dovrebbe saltare Eh da qua Non si passa Ora si passa Allora Ho bisogno Di due porte Per i bagni Due porte Per i bagni Una qua Una qua Ok Abbiamo i due bagni Anche se ovviamente Non abbiamo ancora L'attrezzatura Diciamo Per Per i bisogni Eh di fatto In modo Dovrei anche pensare Un po' Agli vari oggetti Che mi servono Vediamo un po' Se ha creato Qualche diamante Quante Eh uno Da sei siamo passati a sette Va bene comunque Allora Se io scrivo Furniture Oh Furniture Abbiamo un paio Di oggetti Non mi dire Che è qua Accidenti Qua dentro Veramente Ok Mi devo occupare Di lui Mo mi occupo Di sto Tizio La spada Di quella buona Brutto Cattivo Dove sei Dai Veniamo a picchiare Fatti sotto Non avere paura Che fine ha fatto Se n'è andato Se ho offeso Aia Oh se n'è andato Meglio così Allora Furniture Dunque Lavantino Eh mo sti Cosi Oh mio dio Dai Con le bottiglie Di acqua Ma quando mai Dai Le bottiglie Di acqua Per creare Gli oggetti Se Palla Da neve Ma sapete Cosa vi dico Raga Che ci starebbe Bene Un venditore Di Furniture Mi sembra Proprio Una bella Cosa Quindi Se vogliamo Uno che vende Oggetti Andiamo Eh ciao Bello Vado di fretta Ci vorrebbe Quindi uno Che vende Un po' Di cose Boh Potrei Metterlo Qui Accanto Per ora Magari Lo vado A posizionare Qua Allora Nasu No Ti chiami Venditore Furniture Ok Texture La texture Di uno Che vende La texture Di uno Che ha Qualcosa Da vendere Vallo a trovare Quando serve Trader Vai Boh Ok Inventario Aspetta Movement Standing Rotation 90 Poi Trader Avanti Questo 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 I vari Sofa Poltrone Poi Abbiamo bisogno Di Altra Roba Della Furniture Vediamo Un po Washing Machine Questo Anche un bel Cestino Ci sta Coffee Table Vasca Da bagno Una radio TV Vabbè Vabbè la sedia Dai Quella è facile Da fare Fridge E per ora Buono così Aggiungiamo Edit Table lamp E Questo Questo è per il bagno Ok Allora Quanto costa sta roba Io direi che ci mettiamo Dei prezzi fissi Più o meno E via Quindi abbiamo bisogno Dei money No Come cacchio si chiamano Credit Diciamo Mettiamo in vendita Tutto a 50 A 50 euro Ogni cosa Ok Pichiamo un po' di soldi Da 50 Allora Trade Allora Questo costa per dire 100 Questo 100 100 150 La lavatrice 250 euro Questo 50 euro Il tavolino 100 Il sofà Tutto questo 150 Del freezer 300 Questo è 250 300 Cucina 150 La radio 50 Televisore 150 La lampada 50 Cistino 50 Avanti Tutto a 50 Ok Butto Butto Ehm Gli facciamo Una piccola La zona qua Una zona Tutta sua Zona tutta sua Signor Fatto 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 Benissimo Ah bene Abbiamo un tizio Mo che vende Venditore Furniture Quindi a questo punto Togliamo la creative Ah creative Se ne va E andiamo a pigliare i soldi Che così compriamo i vari oggetti Giusto Giusto Allora Soldi Deposito Dovrei avere un po' di soldi Qua con me Prendiamo Prendiamo 10.000 euro Li convertiamo Allora 10.000 Dammi Ehm Questo Dammi pezzi da 1000 Bene Contanti 1000 Dammi un po' di più soldi Va Ok Mettiamo in banca 8.000 euro Avanti 2000 Me li porto con me Ho visto le ticche Quanti soldi c'ha Ah poi un'altra cosa Mi avete chiesto anche Di mettere questa allarme Come Come Il Come si chiama il coso Vabbè insomma Diciamo claxon Dai Anche se non mi ricordo Come si chiama Ma comunque Allora Due toilettes Le compriamo Mi è rimasto qualcosa Che cosa compro Questo l'ho preso Ah costa 6 Una tv La tv non l'ho presa Avanti Ok Oh ecco qua Va bene Così A questo punto però Comunque Io farei così Poi Poi Ci mettiamo Questo qua Questo qua Oh yeah Poi Questo ci sta bene qua Quindi Da capo Quindi questo lo mettiamo qua La vasca da bagno Qua Questo andava qua Questo andava qua Il bagno Il bagno va qua A posto Poi Beh Parte di sotto Vabbè Area Zona Cucina Non lo so La zona cucina La facciamo qua Per dire con questo poco spazio Cucina Vabbè ci mettiamo anche una macchina qua per pulire Per lavare Oh la tezza vasca da bagno quasi quasi la Boh la metto qua per ora va Ehm La lampada potrei utilizzarla qua Ok Boh Bene Però raga abbiamo i bagni Qui ancora c'è tanto spazio Devo fare la zona letto Zona da pranzo Ancora queste cose le devo ben decidere Ma Comunque abbiamo già fatto qualche cosa Abbiamo qui le sdraio per prendersi il sole Abbiamo la zona Disco music Abbiamo I bagni Però ragazzi Ci fermiamo qua Perché il tempo è stravolato via È già passato almeno 45 minuti E devo fare vari tagli Quindi Non ho altro tempo Altrimenti chiaramente c'è tanto da fare Ma piano piano vediamo di andare avanti Voi se avete sempre qualcosa da suggerire Raga suggeritemela Quindi ragazzi Per il momento Ci fermiamo qui Spero che questo gameplay vi sia piaciuto Come sempre raga Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Se la serie vi sta piacendo Ci becchiamo presto Ciao alla prossima raga Ciao a tutti Ciao a tutti